Donato Ronci, un po' incazzato, deluso, mi permetta di dirle che la colpa è solo vostra, vero? Ho detto fino ad adesso alla squadra queste cose, perché tu non puoi perdere una partita così, dominata dal punto di vista del gioco per tutta la partita. Abbiamo sbagliato diverse opportunità, tante situazioni di gioco in area avversaria, nell'ultimo passaggio, intorno all'area, abbiamo fatto una partita dal punto di vista tecnico importante, evidentemente siamo questi, nel momento in cui dobbiamo fare un salto di qualità, probabilmente pecchiamo in personalità, non è possibile prendere un gol come quello che abbiamo preso noi, perché mi ci arrabbio tantissimo, perché ci lavoriamo su queste situazioni, sulle letture di gioco, non possiamo prendere un gol su una palla buttata davanti, lo sapevamo. Così, innocuo, in maniera innocua. Assolutamente, domenica lo spottore ha vinto una partita allo stesso modo, una palla sopra, si è trovato Selva Lega a tutto per tutto il portiere, quindi la squadra sapeva che loro cercavano spesso la profondità, quindi tu non puoi non concedere un calcio lungo le spalle con quattro difensori, la palla devi prendere tu. Ci siamo fatti i gol da soli, poi diventa difficile, perché poi si mettono tutti davanti la porta, trovare gli spazi non è semplice, ma noi dobbiamo recriminare noi, dal punto di vista proprio della cattiveria sotto porta, dal punto di vista della scelta dell'ultimo passaggio, perché qualitativamente la squadra ha fatto una grossa partita. Daniele, vogliamo analizzare nei migliori dei modi questa vittoria, inaspettata direi pure, una squadra che viene fuori a 20 minuti dal termine. No, inaspettata non direi, nel senso comunque io penso che nel primo tempo loro abbiano fatto meglio di noi, non hanno sfruttato due o tre situazioni, più che occasioni, per poter passare in vantaggio. Noi abbiamo giocato un po' a tratti e siamo usciti fuori gli ultimi dieci minuti, capendo alcune situazioni che poi tra primo e secondo tempo abbiamo migliorato nello spogliatoio. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, non abbiamo concesso praticamente quasi nulla a loro, abbiamo palleggiato meglio, siamo stati più compatti, e quando ripartivamo avevo la sensazione che potevamo fare gol. Ovviamente il gol è arrivato su una mezza disattenzione, chiamiamola così, anche se è una buona giocata nostra. Penso che il risultato più giusto fosse stato il pareggio, però ci prendiamo questa vittoria perché sono tre punti per noi importantissimi.